Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Curcio, direttrice dell'unità di chirurgia senologica dei presidi di Forlì, Ravenna e Faenza. Colgo l'occasione per parlarvi nella settimana sulla salute della donna, in modo particolare nella giornata di oggi, del percorso chirurgico delle nostre pazienti, dell'evoluzione che c'è stata nel trattamento chirurgico e di quanto la chirurgia oggi non rappresenti più un'opzione terapeutica unica, ma venga inserita nel contesto di un percorso di cura. Dobbiamo rifarlo? Non va avanti? La data della giornata nazionale della salute della donna richiama e ricorda la data di nascita di Rita Levi Montalcini, 22 aprile 1909, donna che ha avuto una grande rilevanza e una grande importanza nel mondo scientifico, sia come scienziata per la scoperta del fattore di crescita nervoso, ma anche come donna che ha lottato per l'emancipazione femminile e ha fatto molto per le donne in difficoltà nei paesi in via di sviluppo. Ha quindi dato un contributo importante nell'ambito della ricerca e nel campo medico, promuovendo quindi lo stato di salute. Non va, vale, non va avanti. No, bisogna rifare tutto perché altrimenti... Vai. La data della giornata nazionale della salute della donna fa riferimento alla data di nascita di Rita Levi Montalcini, donna e scienziata che ha svolto un ruolo fondamentale nel campo scientifico, nel campo medico, ma soprattutto ha lottato per l'emancipazione femminile e ha aiutato le donne in difficoltà nei paesi in via di sviluppo. Il suo ruolo quindi è stato determinante nel campo della promozione della salute. Per stato di salute dobbiamo intendere, secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, uno stato di completo benessere psicofisico e sociale e non la semplice assenza di malattia. Questo ci fa considerare l'approccio alla patologia in modo diverso, in modo integrativo. Ci fa considerare non solo la cura della malattia, ma la cura della persona nella sua interezza. In tema di salute femminile non possiamo non parlare di tumore della mammella proprio per le sue caratteristiche epidemiologiche, in quanto rappresenta la neoplasia più frequentemente diagnosticata nella popolazione femminile. Circa 55.000 nuovi casi sono stati diagnosticati nel 2020 in Italia, con un trend di incidenza che risulta essere in lieve aumento in tutte le fasce di età, sebbene si associ ad una riduzione progressiva della mortalità che abbiamo visto ridursi del 6% dal 2015 al 2020 e ancora fortunatamente ad un aumento della sopravvivenza che in Italia raggiunge l'87% e in Romagna l'89%. Aumento attribuibile alla diffusione dei programmi di screening finalizzati alla diagnosi precoce, quindi di tumori di piccole dimensioni e più facilmente curabili, e anche alla progressione delle terapie adiuvanti, quindi ai progressi terapeutici. Come ci ha già detto la nostra psicologa, il tumore della mammella ha un impatto emozionale perché suscita emozioni negative e sentimenti di alterazione della propria immagine e della femminilità, oltre che dell'ambito della vita di relazione e della sessualità, pertanto non mi soffermo, ma le sequele dei trattamenti, degli interventi chirurgici, dei trattamenti radianti causano difficoltà, possono causare difficoltà e assenza sul lavoro, pertanto il tumore della mammella oggi ha anche un grande impatto a livello sociale. Quello di cui dobbiamo preoccuparci è pertanto, oltre che la cura del tumore, anche dei disagi psicologici della donna e delle limitazioni fisiche che non gli consentano di riprendere in tempi brevi la sua attività lavorativa. La cura si avvale oggi di un approccio multidisciplinare, affida a diverse opzioni terapeutiche, vedete l'ho messa per prima ma non è scontato che sia il primo step alla chirurgia e lo vedremo successivamente, alle terapie oncologiche che possono essere l'ormonoterapia e la chemioterapia. Inoltre la scoperta delle caratteristiche biologiche molecolari dei tumori ci ha permesso di avere farmaci target, quindi farmaci immunologici con l'utilizzo di anticorpi monoclonali specifici per ogni tipologia di tumore. Oppure le terapie complementari come la radioterapia o ancora possiamo avere un approccio non farmacologico con le terapie integrate, quali possano essere l'agopuntura, lo yoga, mindfulness, quindi la meditazione. Sono tutti approcci che ci permettono appunto di avere un approccio integrativo e di assistere la donna nel suo complesso e in modo fortemente personalizzato. Quindi ogni donna avrà il suo tumore e la sua terapia. Tutto questo è possibile grazie anche all'istituzione dei centri di senologia. Cosa sono i centri di senologia? Sono dei centri di cura nei quali la donna giunge dal momento della diagnosi, viene accolta al momento della diagnosi e viene poi accompagnata nel suo percorso assistenziale in tutto l'iter terapeutico. Ma non sono solo dei luoghi in cui si esegue la diagnostica e la donna viene sottoposta alle cure, ma il centro di sonologia è un modello assistenziale organizzativo che è caratterizzato dalla presenza di diverse figure professionali, diversi specialisti che operano e assistono la donna secondo protocolli di diagnosi e di trattamento, secondo linee guida. Grazie anche alla formazione, alla ricerca, all'aggiornamento scientifico, perché come diceva il professor Umberto Veronesi, ci si cura meglio dove si fa ricerca. Non da ultimo il ruolo importantissimo e fondamentale nel compagnare, nel prendere per mano la donna in questo percorso il ruolo delle associazioni di volontariato. Quindi l'approccio multidisciplinare e la cura presso strutture dedicate si traduce in una migliore sopravvivenza e ad oggi registriamo un 20% di riduzione della mortalità nelle donne che si affidano alle breast unit. La chirurgia quindi non rappresenta, come vi dicevo all'inizio, l'unica opzione terapeutica, ma si inserisce nell'ambito di un modello organizzativo funzionale e di un percorso di cura, concepito in modo tale che la paziente vi possa accedere in qualunque fase della malattia e che da quel momento in poi segua protocolli diagnostico-terapeutici condivisi e il più possibile personalizzati. Ma cosa è successo nel nostro ambito? Il trattamento chirurgico si è progressivamente evoluto nel corso degli anni, passando da trattamenti demolitivi e con un impatto importante sulle donne a trattamenti conservativi. Vedremo poi nel dettaglio di cosa parliamo. E anche nell'ambito della chirurgia conservativa e poi demolitiva abbiamo avuto l'introduzione di tecniche di chirurgia plastica che ci hanno permesso di ottenere un miglioramento della cosmesi. E ancora un'evoluzione c'è stato anche nell'ambito della ricostruzione mammaria. Mi piace presentarvi questo grafico perché riassume in sostanza l'evoluzione in tre step. Negli anni 70-80 l'unica opzione terapeutica e l'unica strategia chirurgica era rappresentata dalla mastectomia. In seguito, dopo gli studi del professor Veronesi, negli anni 80-2000, le opzioni si sono duplicate. Quindi abbiamo avuto la possibilità di offrire alla donna la conservazione della ghiandola mammaria o interventi demolitivi laddove ce n'era una necessità di tipo oncologico. Ma nell'ultimo ventennio la scelta e il processo decisionale si è nettamente complicato per il chirurgo perché sono intervenute innovazioni in termini di terapia neadiuvante, quindi la possibilità di eseguire l'intervento chirurgico dopo l'esecuzione di una terapia sistemica, le tecniche di chirurgia, l'introduzione delle tecniche di chirurgia plastica, il counseling genetico. Vediamo cosa è successo negli anni. Quindi negli anni 70, in assenza di programmi di screening e della possibilità di fare diagnosi di tumori di piccole dimensioni, spesso le neoplasie avevano dimensioni importanti e soprattutto interessavano la cute e talvolta anche il muscolo. Pertanto era necessario asportare la mammella con i linfonodi ascellari e anche i muscoli pettorali con importanti sequele funzionali, psicologiche ed estetiche. Il professor Veronesi ha poi fatto studi di confronto tra quella che era la chirurgia conservativa e la mastectomia dimostrando che la sopravvivenza nei due sottogruppi di pazienti era esattamente sovrapponibile. Questo ha fatto sì che si introducesse nella nostra pratica clinica un intervento di quadrantectomia con dissezione dei linfonodi ascellari associata al trattamento radiante. Quindi la prima apertura, il primo sguardo su un mondo di terapia complementare aggiuntiva. Questi risultati sono stati confermati anche dopo un follow up di circa vent'anni che ha dimostrato che indipendentemente dalle dimensioni della lesione, quindi vedete che la sopravvivenza per tumori inferiori al centimetro o superiori al centimetro è sovrapponibile nei due sottogruppi di pazienti. Quindi ad oggi il trattamento conservativo rappresenta lo standard di cura nelle fasi precoci di tumori della mammella in un'era ovviamente di approccio multimodale. È stata anche un'evoluzione quindi non solo tecnica ma anche concettuale. Siamo passati da quello che era il massimo trattamento tollerabile verso il minimo trattamento efficace. Nonostante gli indiscutibili successi oncologici della chirurgia conservativa tradizionale vedete che gli esiti non sono sempre così soddisfacenti. Oggi questi risultati devono essere considerati non accettabili. Vedete che nel corso degli anni si è passati da un concetto di cura oncologica a un concetto è stato introdotto il concetto di cura estetica del tumore fino allo sviluppo dei principi della chirurgia oncoplastica. Gli obiettivi del trattamento chirurgico non sono quindi più solo la radicalità oncologica e quindi l'asportazione del tumore con margini liberi e con la finalità di ridurre il rischio della recidiva locale ma sarà anche quello di evitare quei dismorfismi della mammella, la simmetria, l'alterazione del volume, della forma, la dislocazione dell'areola e del capezzolo che tolgono la dignità d'organo alla mammella e che hanno quell'impatto psicologico forte e importante sulla donna. Questo è stato possibile perché è cambiato anche il criterio di selezione, il criterio di scelta che non sarà più un criterio basato solo sulle dimensioni della lesione quindi il criterio dimensionale non sarà più la guida per il chirurgo per scegliere un intervento conservativo o demolitivo. In passato come avete visto tumori di dimensioni inferiori ai due centimetri venivano sottoposti ad interventi di quadrantectomia. Oggi quello che conta non è il valore assoluto del tumore della mammella ma è il rapporto tra le dimensioni del tumore e le dimensioni della mammella e della mammella dobbiamo considerare anche altri parametri che vedremo successivamente ma nei criteri di scelta e di selezione assunto una importanza fondamentale la biologia che potrebbe farci propendere per una terapia di tipo neoadiovante oppure l'esecuzione di un counseling genetico e di un test genetico che potrebbe modificare l'indicazione chirurgica. Non da ultimo i desideri, le aspettative della paziente oltre che le sue caratteristiche, le sue comorbidità. Quindi entriamo nel vivo di una chirurgia definita oncoplastica conservativa. Vedete su in alto la paziente è stata sottoposta ad un intervento di quadrantectomia ma la forma della mammella è assolutamente accettabile. Lo stesso nell'immagine sottostante la paziente a destra presentava una neoplasia estesa dei quadranti interni della mammella e ha beneficiato anziché di un trattamento demolitivo di un trattamento conservativo con un ottimo risultato estetico. Cos'è la chirurgia oncoplastica? È la combinazione di due tecniche, quindi l'applicazione di tecniche di chirurgia plastica, quelli che sono però i principi della chirurgia oncologica, ma non è solo la combinazione di due discipline. È una filosofia, è un nuovo approccio, è una modalità nuova eh con cui il chirurgo eh stabilisce quale tipo di intervento eh eseguire. Tenendo conto di cinque variabili che sono la sede e l'estensione del del tumore. Le caratteristiche morfologiche e per morfologia della mammella dobbiamo intendere le dimensioni, il volume, la forma e il grado di ptosi, ma anche la simmetria, quindi dobbiamo abituarci a guardare non soltanto la mammella malata eh ma anche la mammella, le caratteristiche della mammella controlaterale. Vedete qui sono rappresentate le tecniche di chirurgia conservativa che vengono applicate a seconda della sede della della neoplasia e delle caratteristiche della mammella. Avete visto quante opzioni tecniche, strategie chirurgiche abbiamo oggi eh a disposizione. L'ottimizzazione del risultato cosmetico è stata estesa anche agli interventi demolitivi per cui siamo passati da mastectomie in cui abbiamo visto ehm caratterizzate dall'asportazione di tutti i tessuti cutanei, sottocutanei, muscolari e linfonodali a mastectomie definite conservative nelle quali risparmiamo tutto il mantello cutaneo e l'areola e il capezzolo e asportiamo in toto eh la eh ghiandola mammaria. Queste tecniche sono state ovviamente validate dal punto di vista oncologico e garantiscono quindi la stessa sicurezza e radicalità oncologica delle mastectomie tradizionali. Questi sono i risultati che si possono ottenere con questo tipo di ehm chirurgia. Ecco che abbiamo così eh definito anche la terapia chirurgica personalizzata. Quindi per ogni donna, ogni mammella, ogni tipo di tumore, un trattamento chirurgico. Cosa dobbiamo valutare quando consideriamo il tumore? Abbiamo detto che dobbiamo valutare la dimensione ma il rapporto alle dimensioni della mammella, la sede, ma dal punto di vista istologico è importante e fondamentale considerare l'istotipo. Quindi sappiamo che esistono tumori di vari tipo di vari tipi istologici. Eh l'uni e la multifocalità. Quindi se il nodulo è unico o se abbiamo più noduli nella stessa mammella, se questi noduli sono nello stesso quadrante o nei quadranti diversi della mammella o ancora la presenza o meno di microcalcificazioni che oggi sono eh frequentemente diagnosticate grazie ai mh allo screening e alla diagnosi precoce. Sulle dimensioni del T mh abbiamo a disposizione numerose indagini diagnostiche. Quindi dobbiamo stressare la diagnostica oggi prima di portare la paziente in sala operatoria. Quindi eseguire laddove è possibile anche le indagini di secondo livello come la risonanza magnetica, la tomosintesi, la mammografia con mezzo di contrasto e possiamo agire sulle dimensioni del tumore inducendo una cito riduzione e quindi una riduzione delle dimensioni del T tramite quindi grazie alla terapia neoadjuvante cioè ad una terapia che viene eseguita prima dell'intervento chirurgico. Questo ha consentito di eh convertire numerosi interventi di mastectomia in chirurgia conservativa. Quando parliamo di volume mammario dobbiamo fare riferimento come ho già detto alle dimensioni della mammella, la forma, l'aptosi ma anche alla tipologia del parenchima quindi le mammelle dense e le mammelle a componente prevalentemente adiposa ehm vanno trattate in modo eh assolutamente diverso. Quindi in sintesi vedete che per le mammelle piccole abbiamo diverse opzioni chirurgiche sulle quali non mi soffermo perché sarebbe complesso eh spiegare i dettagli di tipo tecnico ma non dobbiamo dimenticarci che al centro di questo processo complesso decisionale c'è la paziente. La paziente che ha una percezione propria della sua mammella. La paziente che ha desideri e aspettative quindi non non si può neanche immaginare stando dall'altra parte eh quanta importanza dà il chirurgo a quelle che sono le aspettative della della paziente che non sempre eh è finalizzata solo al trattamento del della della lesione ma come ci ha detto la psicologa è preoccupata della propria immagine della propria corporeità e di quelle che sono le sue relazioni nella vita privata, nella vita sociale ma della paziente dobbiamo anche considerare l'età quindi anche se oggi tendenzialmente mh le pazienti anziane vanno trattate allo stesso modo delle pazienti giovani e dobbiamo considerare le i fattori quelli che sono e che possono essere fattori di rischio in una scelta chirurgica perché possono aumentare il rischio di complicanze e le sue comorbilità. La descalation chirurgica si è eh avuta anche nell'ambito del trattamento dei linfonodi ascellari quindi vedete che in passato con lo svuotamento ascellare c'era un rischio estremamente elevato di linfedema cronico. oggi per fortuna siamo ehm riusciti ad eseguire lo staging dell'ascella, la stadiazione ascellare mediante la biopsia del linfonodo sentinella ascellare che consiste nell'asportazione dei linfonodi sentinella ascellari che sono possono essere anche da uno più di uno e sono i linfonodi che anatomicamente drenano la linfa della mammella e ci danno informazioni su quello che è lo stato dei linfonodi ascellari. Ad oggi l'esame istologico eh sarà l'esame istologico definitivo a condizionare l'eventuale svuotamento del cavo ascellare e uno studio rivoluzionario recente ha eh ridotto addirittura l'indicazione alla dissezione ascellare anche in presenza di linfonodi sentinella positivi. Cosa c'è di nuovo oggi per il chirurgo? Relativamente nuovo ma eh è oggi sempre più frequente trovarsi di fronte a pazienti che possono avere un rischio eredo familiare eh e una predisposizione genetica. Quindi oggi il chirurgo deve fare i conti anche con la chirurgia eh erroneamente definita eh profilattica ma con la chirurgia di riduzione finalizzata alla riduzione del rischio perché vedete che possono essere portatrici le donne possono essere portatrici di mutazione genetica eh BRCA1 BRCA2 eh che aumentano il rischio di carcinoma della mammella e di carcinoma dell'ovaio. Cosa facciamo se le pazienti sono portatrici di mutazione genetica? Eh consigliamo eh stili di vita corretti eh attiviamo una sorveglianza eh diversa eh possiamo proporre una chemioprevenzione ma quello che realmente abbassa e riduce il rischio è il trattamento chirurgico quindi con la rimozione profilattica delle mammelle e delle ovaie. E ancora cosa abbiamo di innovativo? Abbiamo la chemioterapia e le terapie biologiche preoperatorie che in passato venivano eh fatte solo per le forme localmente avanzate ma che oggi vengono proposte anche alle pazienti con particolari eh tipi istologici quindi le R2 positivi e i triplonegativi anche in caso di malattia operabile. Questo mh ha un significato importante per il chirurgo perché grazie alle terapie noi possiamo ottenere una risposta patologica parziale o completa e quindi scegliere la nostra strategia chirurgica sulla base della risposta alle cure e forse in futuro in caso di risposta patologica mh completa perché no omettere la chirurgia. Concludo lasciandovi alcuni messaggi fondamentali. Il processo decisionale e la pianificazione chirurgica nel trattamento di una neoplasia mammaria non può prescindere oggi dalla considerazione delle caratteristiche dimensionali topografiche e biologiche del tumore, dalla morfologia della mammella, dalla valutazione clinico-psicologica della paziente inclusa nei casi richiesti la genetica, dall'ascolto dei suoi desideri e delle sue aspettative. È divenuto un processo complesso multifattoriale che deve essere condiviso in sede multidisciplinare e con la paziente. La cura inizia prima dell'ingresso in sala operatoria e l'intervento rappresenta solo una fase di un iter più complesso che coinvolge in modo sinergico diverse figure professionali. L'integrazione delle competenze proprie o specifiche di ogni professionista garantisce la migliore cura e qualità di trattamento e di esito e in ambito chirurgico in particolar modo la stretta collaborazione con il chirurgo plastico. Questa integrazione si è realizzata anche a livello nazionale. Io sono parte del comitato promotore di questa associazione che unisce e fa lavorare insieme chirurghe senologhe e chirurghe plastiche e dà risposta da donna a donna sia sulle tematiche del tumore della mammella che sulle tematiche della ricostruzione mammaria. Io vi ringrazio e vi lascio con questo mio pensiero.